Un momento di confronto con i ragazzi per affrontare un tema di grande attualità dove i rischi sono parecchi, però offrire gli strumenti per poter limitare la vulnerabilità nella rete. L'incontro di oggi è proprio questo come obiettivo principale, che è quello di dare la possibilità ai nostri ragazzi di comprendere quali sono i rischi a cui vanno incontro nell'utilizzo sconsiderato del web, anche perché il nostro istituto, in prossimità della giornata mondiale per la sicurezza in rete, che è stata istituita da parte della Commissione europea, sia adeguata perfettamente. È importante che la scuola sia presente in questo percorso, perché la scuola ha come obiettivo fondamentale quello di sensibilizzare i nostri ragazzi e anche di informarli sui rischi e sui pericoli. L'utilizzo di internet oggi è anche una grande opportunità dal punto di vista anche scolastico, perché praticamente in questo modo è un nuovo strumento di apprendimento che può essere utilizzato e che proprio perché è così vicino ai giovani e così tanto usato da loro, ci permette magari di far comprendere degli argomenti e delle competenze che in modo diverso magari non riuscirebbero a comprendere. E quindi internet deve essere utilizzato in maniera consapevole, in maniera corretta, con il buon senso che possono essere anche dotti su quali sono i pericoli, ma anche quali sono le leggi che regolano in materia. È stata introdotta una legge recentissima, la numero 71 del maggio, dove prevede che la scuola sia in prima persona impegnata appunto nella tutela di questi ragazzi, ma non soltanto la scuola, ma anche la questura, che è il primo passo per tutelare questi ragazzi. Possiamo dire che le insidie, le minacce, quelle che prima si consumavano all'interno dei luoghi fisici, adesso si sono trasferite nei luoghi virtuali, dunque nella rete. Ma proprio stamattina sentivo una notizia di cronaca di una ladra in una profumeria che non ha resistito e dopo aver fatto il colpo si è fatto anche il selfie. Quindi ormai c'è questa mancanza di realtà, siamo proprio in questo clima di per realtà, non riusciamo più a distinguere il reale e il virtuale, perché il processo di vetrinizzazione è costante, abbiamo bisogno di rivederci in maniera digitale. Io cercherò di far passare questo messaggio ai ragazzi, cioè le nuove tecnologie rappresentano una bellissima opportunità, possiamo veramente utilizzarle per costruire conoscenza, non utilizziamole per pericolose derive come cyberbullismo e sexing. Devo dire che sono due nemici davvero forti, ma che non sono invincibili. Lei è la Presidente dell'Ordine Provinciale degli Avvocati, ecco in questo contesto la figura del legale, in una situazione in cui molto spesso si vanno a creare dei conflitti. Io ringrazio innanzitutto il dirigente scolastico per aver invitato tramite me l'Avvocatura Grigiantina a partecipare a questo evento su un tema di particolare importanza. A primo acchitto può sembrare un tema semplicemente sociologico, ma in realtà interessa moltissimo l'ordinamento giuridico perché si parla di dignità umana, che è il fondamento della convivenza dell'ordinamento giuridico. Quando la tecnologia che galoppa mette a rischio e va a odortare contro i valori dell'uomo e dunque entrare in una situazione di contrasto e qui poi subentra la figura del legale dell'Avvocato. Subentra la figura del legale ma è necessario utilizzare strumenti che siano a passo con la tecnologia e non strumenti tradizionali. Solo così si può garantire la possibilità di tutela dei diritti fondamentali del cittadino. Grazie a tutti.